Operazione 730 online al via. Da oggi infatti è possibile accettare oppure modificare la dichiarazione dei redditi pre compilata dall'agenzia delle entrate. Il modello 730 pre compilato è reperibile nel sito Fisco online utilizzando le proprie credenziali di accesso che si possono richiedere negli uffici territoriali dell'agenzia oppure con l'apposito pin dispositivo IMSS. Una volta scaricato il modello può essere controllato, accettato così come è stato compilato sulla base dei dati conosciuti dal fisco oppure integrato o corretto nelle parti che contengono imprecisioni o errori. Deve essere poi rispedito all'agenzia entro il 24 luglio se è un 730 o il 2 ottobre se è un ex modello unico. Nelle parti pre compilate, ed è questa la principale novità, si troveranno anche tutte le spese sanitarie sostenute per prestazioni, servizi e farmaci insieme a tutti i dati in possesso dell'anagrafe tributaria, i mutui, le assicurazioni, i contributi previdenziali e le spese sostenute, come quelle per la formazione e per le ristrutturazioni. Se accettato così come è stato pre compilato dall'agenzia delle entrate, il 730 non sarà oggetto di successivi controlli. Se il contribuente inserirà invece qualche modifica potrebbe vedersi richiedere la documentazione relativa. Oltre a non dover eseguire calcoli, chi presenterà il modello pre compilato avrà anche il significativo vantaggio di ottenere l'eventuale rimborso di imposta direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione. Le dichiarazioni pre compilate già online e pronte per essere inviate sono oltre 20 milioni.